Un saluto dal Tg della mobilità, d'esclusione dei giorni festivi e prefestivi sono in corso i lavori per la sostituzione e riqualificazione della segnaletica verticale sulla via Pontina. La prima fase riguarderà il tratto compreso tra Viale dell'Oceano Pacifico e il chilometro 45 ad Aprilia in entrambe le direzioni. Dal lunedì 29 agosto fino al 30 settembre sarà invece interessata l'asse principale. Per contenere i disagi al traffico i cantieri saranno attivati solo in orario notturno dalle 22 alle 6 con transito sempre consentito su una corsia. Nella seconda fase i lavori interesseranno il tratto tra Aprilia e Latina. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.